yuki a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui con l'opening del nuovo set legacy of destruction il nuovo set che uscirà da noi il 25 aprile che all'interno conterrà tante carte interessanti tra cui supporti lightsworm il nuovo mazzo ten by caso che ha fatto spiegare di prezzo drago tridente in più tanta altra roba interessante tra cui un mazzo dedicato alle carte utilizzate nell'ultimo episodio della prima serie nello scontro tra yuki atem carina come idea cioè ho visto le carte non sono ma in più ci sono supporti melodio su supporti in gronaggio antico e tanta altra ovviamente però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto di fanco giochi da tavolo e giochi di carte principalmente ragazzi yuki oh magic pokemon one piece forse will non ce l'hanno però hanno il nuovo gioco incredibile sia di dragon ball che di star wars quindi se volete un 5 per cento di sconto vi ricordo di utilizzare il mio referral link e il coicesco inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo procediamo con lo spacchettamento speriamo di trovare qualcosa di interessante tipo la quarter di qualcosa soprattutto ragazzi quella dei due maghi che è l'ultima che faranno poi si passerà a quella sorta di drago bianco doppio ma vabbè carino ma anche quello finirà nel dimenticatorio abbiamo qua il token del nuovo gandora ok più un pacchetto extra a caso e una valanga in mezzo de bustine andiamo col primo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori allora abbiamo o nuovo supporto centurion che questo non mi emozionava più di tanto mi sembra vabbè poi carta lightsworm carta bu questa se non ricordo male è una carta sinfuls e questo se non ricordo male dovrebbe essere il supporto gold pride che non era assolutamente male allora bene ma non è questo che ci interessa vediamo di tirare fuori qualcos'altro di carino allora abbiamo un ninja a caso insetto poi primo supporto in granaggio antico questi non sono assolutamente male vi consiglio di testarli poi cartina valmonica ma non cambia assolutamente niente altra carta in granaggio antico dai 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 abbiamo la rara carta in granaggio ovviamente ragazzi non staremo qua a parlare di ogni singola carta perché c'è una live sul canale e vi consiglio di recuperarla dove parliamo di tutti i set che sono usciti tra cui ovviamente legacy of destruction dove abbiamo analizzato tutte le carte e quindi recuperate quello allora qua abbiamo carta dino boh carta caso inutile di nuovo la carta valmonica carta di merda e questo ragazzi è il nuovo archetipo sarcofagus che esce in questa espansione e praticamente questo è mago silente la meccanica di questo mazzo praticamente c'è mago silente e spadaccino silente mi sembra e praticamente si pompano e negano è carino ma basta il senso si ferma lì è andiamo con il prossimo allora abbiamo supporto be trooper che non frega assolutamente niente a nessuno perché fa schifo poi golem in granaggio antico col pisello grosso il piccolo il cucciolo il cucciolo di drago del giudizio e poi spaccherà tutto e rimuoverà il figlio tra il punishment e il drago del giudizio poi vabbè cose a caso o la rara no bellissima carta molto interessante per questo set è forte non ricordo l'effetto lo leggeremo insieme si evoca con due o più mostri di livello 10 quando il tuo avversario attiva una carta o un effetto effetto rapido puoi staccare una carta questa carta annulla l'attivazione poi puoi staccare in più materiale a questa carta e distruggere una carta sul terreno all'inizio della magia step se questa carta con materiale attacca puoi distruggere una carta sul terreno se questa carta evocata exis viene distrutta puoi distruggere una carta sul terreno cioè se tu fai qualcosa a questa carta distruggi una carta sul terreno quindi assolutamente onesta sarà una delle robe ovviamente da recuperare allora andiamo col prossimo peccato che si evoca con due livelli 10 o se stata un pochino più bassa tipo un 7 cash tira ne abusava vabbè andiamo avanti questo no non è il pacchetto di prima questa sembra tipo una magia rapida gem night poi abbiamo vabbè carta melodius e il supporto melodius che non frega niente a nessuno però al primo movimento lo facciamo pagare 18 euro chi l'ha comprato nessuno perché ragazzi nessuno vuole montare quel mazzo quando ci arriverete capirete che non potete alzare il passito allora abbiamo un carro armato il piccolo carta valmonica e una prima secreta il mazzo che vi dicevo prima hanno cambiato fuori la tua secreta o rende un botto su questa carta no la carta è incredibile parte che questo mazzo così per ride me lo monterò online lo testerò un pochino tanto per faccio due partite però che figata dai su bene bene ci siamo già portati a casa una ultra e una secret no e anche una super quindi assolutamente niente male adesso speriamo di trovare qualcos'altro di cicciotto tipo la quarter andiamo con il prossimo e vediamo ho lo spadaccino poi abbiamo questo a caso questo non mi interessa e vabbè una rara di merda dai andiamo col prossimo allora oh che bellino il marshmallow con gli occhiali questo è praticamente allora la conamento bello abbiamo marshmallow bello abbiamo gli occhiali facciamo una carta mix insieme basta siamo tutti contenti allora o abbiamo altra carta zombie o questa è la prima carta tempi che troviamo ragazzi mazzo è carino ma going first forse prende il cazzo se non gli danno un handboard migliore rispetto a quella che ha visto che gioca in battle questa ovviamente la magia tempi che fa partire la combo partendo dal bianco e alla fine abbiamo trovato anche uno dei sincro questo era il pacchetto tempi onesto ci sta andiamo avanti dai dai su abbiamo uomo fungo in versione 2024 poi un'altra melodius questa è verde non lo so eh non so se me la farei poi abbiamo carta sinfu ragazzi ragazzi gli hanno dato gli steroidi palese guardate quanto è diventato grosso il poveraccio vabbè e vabbè carta palmonica anche questa ragazzina di 12 anni perché ha la community di yuki piacciono così mi dissocio da questa cosa eh però conami io le farei over 18 eh e poi scopriamo che sono tutte over 18 perché in realtà hanno 5 mila anni ma un corpo da 14 allora andiamo avanti dai su questa è palesemente maggiore n poi questi due sulla neve e vabbè ragazzi guardate per risparmiare hanno preso un pezzetto di questo art l'hanno ovviamente specchiato aggiunto qualche altra cazzatina e l'artwork ha fatto apposta e poi per il resto niente andiamo col prossimo e vediamo abbiamo ho forse visto qualcosa eh ho visto qualcosa che brillava tanto vabbè lo scheletro un altro tempi ci manca solo il bianco e li abbiamo tutti no ci manca anche un altro sincro bello bellissimo bellissimo li abbiamo anche qua quasi tutti ci manca il gandore e poco altro che bello e poi c'è quello grande dietro perché ovviamente si pompa d'attacco e diventa quello grande e lui che è palesemente rifacimento di una carta vecchia perché ovviamente bisogna beccare tramite fils i nuovi giocatori o perché non si hanno idee le opzioni sottante cioè allora abbiamo la tartaruga vecchia punk po cringe eh come mi hanno detto che sono nelle reaction però nel senso è una reaction allora il tempi verde poi altre due tip niente niente anche questa ripresa da un vecchio artwork tanto vabbè konami fa così vabbè siamo al 25 annale ti puoi permettere queste cose dai su bisogna ricordare a quarter uno due dai su dai ho flashato male sono un pochino morto dentro in questo momento dai ci confido dai dai su dammi qualcosa dammi qualcosa dai anche il sincro lightsworm eh così ok sempre dell'archetipo dove palesemente non vogliamo lavorare però eh sì quella è una quarta eh sembra un po' cattiva eh però è una quarta ci posso sta e poi vabbè un insetoide a caso vabbè buono ovviamente l'occhio del millennio così dici no egizio egizio allora dai abbiamo uno spadaccino la tartaruga punk oh vabbè quella è selene sembra di sì che palle che palle dai su non mi potete dare una secret sola se no giuro che do de matto allora supporto dino perchè dino è forte poi supporto in grange antico perchè in grange è forte carta swordman perchè swordman è forte ma che cazzo è questo carta congegno perchè congegno è forte niente dai che poi non credo sia una carta congegno fermi ragazzi il video non è finito e usciranno ancora delle bombe quindi se volete supportare questo video aiutarmi ad arrivare a 10k entro fine anno vi basta solamente mettere mi piace commentare iscrivetevi a voi non cambia niente ma a me da un supporto enorme perchè il vostro supporto mi permette di far arrivare questi video a tutta la comunità grazie mille a chi lo farà adesso continuiamo con l'opening andiamo adesso con l'altra fila e speriamo in qualcosa di migliore se no veramente dobbiamo credere nel pacco promo allora abbiamo vabbè cose a caso il marshmallow che poi fa come marshmallow e poco di più eh non serve un cazzo all'interno del mazzo ok ok altra carta per l'archetipo con la topa fregna ma cattiva allora andiamo avanti basta sto producendo plastica in continuazione almeno datemi qualcosa di buono perchè sto producendo plastica in continuazione ma fatemi tirare fuori qualcosa di buono perchè altrimenti i delfini muoiono senza un vero e proprio motivo ma dio mio dai tutta questa plastica tanto finirà nel mare quindi fa che ne valga almeno la pena se c'è una quarter giapponese che vale 10 euro va benissimo son contento così per favore dai dai la magia tempai uh bellissima abbiamo trovato ma ragazzi ma qua tempai costa 1 euro e 70 perchè se questa è palesemente ultra il resto è tutto raro e tutto raro e comune cioè teoricamente manca solo il mostro bianco cioè se quello è comune, raro o super sto mazzo in giappone costa 5 euro bellissimo eh oh la per drago tridente dovrò dare 2 milioni di euro oh non ha senso vabbè ragazzi tanto è sempre così in giappone i mazzi no le carte costano meno basti pensare che boh un polvere ghost da loro costa 50 euro e da noi in prima costa 2 mila messo bene però ogni tanto ci pensi allora nuovo supporto gold pride poi un bestione un'altra carta inutile dai è la ultima io quando la vedo so già che è un fallimento dai su qualsiasi cosa va bene cioè konami ancora che tostini a chiamarle ultimate questa questa non è una ultimate questo è un aborto basta può essere anche la carta migliore del 7 non me ne frega niente fa sboccare fa palesemente sboccare fa sboccare punto e in più è una carta del merda è brutta come la fame basta non mi interessa se è il mazzo del meta dai 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 ok abbiamo trovato i tre congegni carino probabilmente la trappola funziona con loro dai dai su oh neanche un supporto carino lightsworm tipo il sincro il sincro il sincro mega sarebbe a parte che è forte è anche fregna e diciamo io con la fregna ci vado abbastanza a nozze dai niente 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 mi vuoi da dai oh che questo canale costa troppo almeno dammi le soddisfazioni quando spacchetto uno due tre niente allora ci sono rimasti uno due tre quattro cinque sei e sette pacchetti qua confido che ci sia qualcosa di buono abbiamo una cosa a caso il drago comunque sto iniziando veramente a pensare che il drago bianco sia fuori perché sennò è strano che non mi sia ancora uscito pensavo di dire oh guarda un po' mi sbagliavo invece dai dai un po' vediamo uff mi sa che qua c'è un'altra rara allora abbiamo una carta per mazzo servitore del teschio poi altra carta inutile valmol allora la di Abelstar è palesemente mia moglie e con quel frustino si fa sesso sadomaso si quanto quanto me sa de porca porca troia insieme a poplar ovviamente ovviamente questa c'è sbocca andiamo con il prossimo e vediamo se riusciamo a trovare la quarter non so se esiste però sarebbe bellina allora abbiamo la punk turtle abbiamo la gem fusion abbiamo la melodius canto antico e niente per favore mi dai una quarter mi dai due maghi che è quella che vorrei mettere in collezione perché vorrei collezionarli tutti dai su e poi konami che la grande idea artwork alternativi no fond alternativo dio mio però quella è una droga cioè sapete il problema del completismo ti uccide perché la carta è la stessa cambia lo sfondo veramente mi sto facendo fregare con uno sfondo differente sì mi basta questo per essere comprato però nel senso si 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 preoccupatore che facciamo ce ne priviamo assolutamente no poi potete comprarli sul sito di fantasiastore col mio referral link il colo c'è sconto allora andiamo avanti andiamo avanti carta di Yubel palesemente presa dall'anime ovviamente nell'anime non si vede Yubel si vede una figura misteriosa e qua ovviamente che fai? non ci metti Yubel con le gambe accavallate che poi dovrebbe essere sia maschio che femmina però quello non mi sembra un pettorale Konami qua non me la dai giusta andiamo con l'ultimo prima del pacco speciale niente quarter ma vabbè un bel pull ragazzi questa è una carta che fa da negazione e tu dici vabbè è trappola non è il massimo perché comunque te la puoi millare spoiler se te la milli te la puoi risettare andiamo e Melodius che schifo bene ragazzi adesso andiamo con l'ultimo che può contenere qualsiasi cosa anche la pace nel mondo vabbè abbiamo una delle carte del set foil ovviamente e vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa di umano tipo un altro Iceworm io giuro che si esce una carta di quell'archetipo di merda che abbiamo palesemente trovato ultimate mi sparo ok dovrebbe essere il centurion e gli hanno messo dei missili al posto delle tette ma ok grande Konami e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e ovviamente ragazzi mi sto prendendo il token perché che fai non ti prendi i token con dietro il back che non è il back grande Konami la prossima volta in futuro se vuoi mettere proprio un token all'interno di questi box tipo questo ma me lo fai come vero token sarei molto contento grazie comunque vi stavo dicendo che noi ci rivediamo ovviamente domani con un nuovo video ma martedì sera anche con l'opening di un altro box sperando a questo giro di trovare quei cazzo di maghi perché oh stanno a 10 euro ma li voglio detto questo ragazzi ovviamente grazie mille per aver visto il video e noi ci rivediamo domani sempre qua come vi ho detto prima sempre con un nuovo video ciao a tutti